Carino Sono cagato, intradiatrice leggera marcata, tranquillo sono apparecchato, onesti soldi Vado ai bagni Dobbiamo fare una roba veloce perchè, a parte che dobbiamo sparare che non si è sceso nessun monumento intanto Spendiamo la bel contratto Raggiungete il punto indicato e mettete in sicurezza l'aria Mi ha sparato Che quando qualcosa Mi è arrivato un colpo ma non mi ha colpito Cazzo Possiamo tornare a fare il contratto a che tanto Trovate i soldi Porniamo indietro Vieni Affermativo Sono tutto tipo un colpo di cerchino Sono cagato in mano Quel tipo un cecchino Porca troia Cosa? Ah lì? Si Ah l'ho visto l'ho visto l'ho visto Ah non c'è il negozio qua, fanculo è stato già correndo Ci sono anche l'elicottero Alla Aspetta andiamo qua Venditore marcato Facciamo prima il contratto Sì Sì Tutto non lutto questo posto Tu fai sopra io salvo un vento No ve lo fai il contratto Quanto tu è giù Ah sento delle casse Sto scendendo Sto scendendo 50 secondi a livello da Sto scendendo Sì sì Obiettivo principale raggiunto Informazioni tattiche e in sicurezza Allora metto con la cadernino Scusa c'è una taglia qua Qui Ho marcato dell'equipaggiamento Qui ha una taglia ok Versaglio taglia contrassegnato Uccidetelo Cioè a me non capisco se taglia ignoranti proprio Vediamo Non c'è più un contratto in tutta la mappa Cioè se ti rendi conto Se prendiamo la taglia ce l'ho togliare i contratti Se prendiamo un contratto Ci prendiamo un contratto Ah mi ti fanno anche più vedere No Attenzione Un team nemico vi sta dando la caccia Cazzo Eh andiamo al coso Negozio Questa è gratta Eccola fatta, è uscita la bandiera adesso No, vai lì che le vedi adesso Si, sono inibite Si, ma prima stavo guardando la mappa e me la vedo No, vabbè, fai tutto il giro Potremmo fare cose zozze se vuoi Ah, sì, ho un po' di soldi Anche qua dentro è un lutto Mila e due Non c'ho qua Non capisco rischiare Siamo in quelli coperti da, come si chiama, no? E chi ci colpisce qua? Ho fatto tutto quello Dammi soldi, dammi 500 Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo Dovrei tirare Compre lì Non so se tenere il blu è nel car Dove è finito il mio M4? Ecco qua Mica quasi quella mia Brue o M4? Se hai il car è M4 Se hai il P5 è M9 Io c'ho il car e M4 Quella qua è qua top Ho marcato dell'equipaggiamento Andiamo Siamo attenti ai grattacieli perché qui ogni volta ci inculano Sì E facciamo questa bandiera o facciamo... La bandiera è interessante Ho marcato dell'equipaggiamento Dove cazzo è questa bandiera? Obiettivo aggiornato Mestete in sicurezza a quella posizione Io ho come l'impressione che ogni volta le M4 faccio... Siete salvi Avete seminato gli inseguitori Faccio solo le carette Che cosa? Le M4? Sì Interessante Sto andando al contratto Eh, arrivo questo Sto guardando un attimo nei cieli Merda è aperto Quindi qui Copri, copri Copri Sto io qua Tu guarda l'entrata Io ho posto da ovest Ma meno staff anche me Informazioni tattiche ottenute Ottimo lavoro Eh, porca puttana Dando, dicendo a porto di vista È una fegato scena Però, dall'altro Merda Arriva un lancio d'equipaggiamento Allora, ce l'hai un trofeo? No, hai capito Dovemmo cercarlo Cazzo Volemmo incontrare qualcuno vicino al dallo Volemmo incontrare qualcuno vicino al dallo Volemmo incontrare Minca, siamo lontanissimi dalla safe Dovemmo penneggere il veicolo Potremmo andare qua Ho trovato un veicolo Sì Faccio la ricarica molto Qua fine, amico in volo Con il cerchino Sono full Mi serve troppo, però Cazzo Cioè, andiamo al negozio Fendiamo il kit, innanzitutto Prendiamo la macchina Andiamo Naturell Qui sono già entrato Piano piano Versaglio taglia identificato Fatelo fuori Ho preso la taglia? Sì, sì Qui è chiuso Lascio i soldi al negozio No, non sono poco Ci sono Posso prenderli Vedo 30 secondi Puoi prendere la macchina Tu hai già la maschera? No Beh, sto dicendo Mi ha messo qualcuno Muore in caso Ho capito Io però Sai che moriamo Col città Proprio Lo so Ma Andiamo a mano Andiamo a piedi Sul laghetto A piedi Eh no Sono passato in mezzo Qua Eh, vado qui Eh, sì, sì, sì Come non detto Vai, vai Ma è macchina di te Ah, è macchina Sì, sì, sì Dove neanche Dove neanche Ah, io E' un attunito Il caracca di Sì, che arrivo Non riesco anche a correttarli Se vuoi fare il cambio pilota Ma Fa messi male con la macchina Eh Lo so Occhio Allora Prendi tu Merda Prendi tu il cosa Eh L'autico Vai, vai, vai Ho fatto le piastre Adesso c'è un ponte qua Possiamo farlo tutto a piedi Fino a un certo punto Questo veicolo Non credo che dovrebbe essere qua Sì Prendiamoci quello Potremmo farlo a piedi Se siamo in safe Se vuoi andiamo a punti Ah, ma quel veicolo l'hanno usato Sì, dico quello Chiudi, usciamo Usciamo, usciamo Sì, sì Uno Due Tre Dovei Lo limiti Sì, sì Ma infatti Vorrei di tornare indietro Un pochettino No, andiamo da sopra Vorremmo a salire Ok Da qua Mi muovo di qua Non so Annullare Adesso nel giro Vediamo un'azione Cazzo Ah, sono qua Sono qua Da vent'a noi Qua la montagna E non la montagna Mi muovo Non ci credo Che sono qua Te lo giuro O se non ho flashato Ho visto uno Lì fermo Che ci guardava Io spero di aver flashato Io spero di aver flashato Comunque non è perché Il contratto è annullato Ho visto nuovo Ho visto nuovo Non è stato nascosto Però Magari ho flashato Ho visto uno in piedi Magari ce l'avevo già sparato Però Vabbè andiamo Avrò flashato io Aspettiamo il gas O no Questo si va bene Non è venuto 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 Mi sto cagando addosso Mi ho fatto pochettino cagare in mano Allora saliamo L'unica Continuiamo a ruotare E poi da qua non possiamo salire Bisogna salire proprio qui E' proprio bloccato lì No no Sì Che è stato salire Sì Dov'è che è stato salire? Sì sì Ma attento Dobbiamo crossare Cassi in movimento Nuova zona sicura Individuata Eh perdiamo Dove cazzo ci mettiamo noi Ahio Eh sì Pazienza a questo tipo Eh ciccio Ahio Eh dove ci mettiamo noi Protection qua Mi sposto Sì Dovendiamo così spenarci Perché tutto è un po' fatto E poi Eh boh C'è spuglie Sassoni Direttamente a sinistra A ovest Ti voglio la vittoria Eh Un nuovo setappino magico Oggi con L'abbiamo già visto L'abbiamo già visto Eh non mi ha scritto Ti sta guardando Sì sì Eh ma ci proviamo Voglio provare a essere worka Questa classe Avete del gas In arrivo Penza lipido termico Ti aspetto Dobbiamo portarci nella zona sicura A stare l'angelo Ho fatto il giro Bello alto Per vedere se c'era quel punto Adesso si cura Adesso la fine Subbettiamo una taglia Contra Come sempre Taglietta Sì siamo in seguito Sì siamo in seguito Sì siamo in seguito Riposizionamento Ma al momento vorrei piastre Hai capito Eh sì Stiamo andando un po' In culare qua Allora Il discorso è Che potrebbe Se ci giù la gente È qua In movimento Potremmo fare attenzione Un sacco Andiamo Culo bordo safe Madò Madò Dove sono Mi far radico Eh sì Non abbiamo più la possibilità Di farci la Niente Aspetta che voglio andare Nel posto ci sono le cunette Che qua è troppo open Da in merda E' una costruzione E' una costruzione Quella lì Forse Ok Eh che scatole Ok Sono abbastanza messo bene In questa posizione In questa posizione Cassi in arrivo Alla nuova zona sicura Nice shit Minca Se riusciamo a stare qua sopra Sempre In movimento La dritta La dritta Che guarda una via A tre Possibì che Siamo unici con questa idea 20 stronzi C'è una corona Che è Che è Pasqua Qui c'è un bersaglio Non è male qui Sì eh Aspetta Ok Incendi che volano Occhio per la casa nata Riposizionamento Ignorate In movimento Ti facciamo cagare in mano Ah Ma la rotation Che abbiamo fatto Cioè Era bellina Non dovreste C'è nessuno dietro In teoria Avete del gas In arrivo Tanto l'oltre ho pensato A chi E' una belle rotation Però E' che fanno La sorprese O sta arrivando La tagliarò La corona Sta arrivando Siamo tutti Nella zona sicura Sì 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 È da bene D'altra parte del mondo Ah no Ok Che adesso Va bene Ok Aspettiamo un attimo Vai cerchiamo anche tu Sì Sì Questa corona La volevo tritare Eh Spero questa fa buona Ma non ci facciamo più niente Adesso Abbiamo un attacco A braccio L'hanno Vuoi farla con la corona Capito Sì Volevo fare quella Sì 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 Volevo fare quella La cecchiniamo pulita E non resta un'altra squadra Non lo so Dimmi qui 200 mali Vorrei capire Però sta passando Troppo bene comunque Sì infatti Per quello Proviamo Sto guardando La madre Adesso le sei mangiare Esco conoscere Dalle case Prima che la finisca No no Nel posto Ricevuto Ok Sto guardando dietro Mi era metto finale In preparazione Concludi lo scontro Meglio al posto Della safe Questa Dove siamo noi Carino Romantico Allora Domanda è Questo stronzo Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo vedo Quando vuoi Sta scendendo Lo devo fare Appena prendi il loadout Appena prendi il loadout C'è un cecchino davanti Fagli uscire la corona Ma perché Perchè lui non rispara Lui non rispara Forse non l'ha visto Ha visto a noi Non ha visto quel tizio Oh Cioè davanti a me stanno facendo una bandiera Qua sotto Dentro il super cosa Eccolo il finanzato è arrivato Prendi il loadout Guarda il cecchino davanti Ancora Porco dio Nemico Eh sì sono in due Ma loro Loro sono più messi di merda Siamo messi meglio noi Siamo in safe qua Fai un attimo Sì Siamo in safe Sappiamo che qua c'è una squadra Ah stanno inserendo qua 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 Qui disparano L'ho visto L'altro è dietro la roccia l'altro Chiudilo Aspetta corazzo Ok L'altro dov'è? L'hai ucciso l'altro? No L'altro è sotto È morto è morto è morto è morto L'hanno confermato qualcuno eh Non noi No no Eh si è arreso magari Non lo so No no Il cecchino davanti a me Può essere Se mi colpisce mi incazzo Comentriano Tutto a posto tu Al massimo ci andiamo No no c'è un sacco di spazio Nuova zona sicura contrassegnata Allora Dobbiamo provare sotto con l'hunger di merda Allora Restano meno di 10 gli amici Uh Eh ci andiamo dentro con l'hunger lì Ci andiamo dentro con l'hunger lì è buono eh Però Non si riusciva a rimanere qua sopra Qua sopra dove è? Oh Perché secondo me Sono ancora sopra L'hai visto? Dove? Qua Movimento No Sono in due Nemico Eh saranno i miei che staranno andando Allora sto pensando Aspetta questi quelli possiamo lootare innanzitutto Eh so Andiamo Big blue Eh poi lo che ci cerchino dietro i stronzi Vai 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 Cazzi in avvicinamento Fanno più assa questi stronzi Hanno la maschera però Mi sto piastra e subito Mi sto irritando mi sto irritando Sì lo sto sto basso sto basso sto basso Mi sto piastra Hai una attacca ai roghi attacca al grappolo sono stata così? Sì Dove sono dove sono? Non lo so Attacco al grappolo alleato L'hai preso? No non ce l'ho fatto pazienza Ce ne andiamo Non ho trovato la maschera ce ne andiamo correndo Via 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 Sì non c'era un'attacca al grappolo qua Eh lo so ma Non c'è tempo Hai preso tu? Ci cerchino ancora Lo tiro di nuovo Lo tiro di nuovo Lo tiro di nuovo Via 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 Non lo so Attacco al grappolo alleato in arrivo Vado via via Vado via Vado via Vado qua in mezzo c'è Fulio Sono cinque stronzi vivi eh Cassi in arrivo Nuova zona sicura contrassegnata Ok Madonna dentro quel l'hunger lì Vado a vedere un attimo Che merda Questa è in safe Sì Mi sposto Lasciate stare Non vedo stronzi E' una stronzata che non vedo nessuno Eh dobbiamo muoverci Cosa facciamo? Devo andare l'interno Nero In movimento Interno Nero Sì 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 ti seguo a tetto Guardando dietro Sì assi in avvicinamento Stanno flettando Stanno flettando Dirigiamoci verso la zona sicura Potevamo uscire da qua eh Movimento Sai cosa fare Vengo da te Non mi fa sdraiare Merda Non possiamo in cinque Stronzone qua sopra Qua è qua stronzo Qui c'è un ber Segnalo un bersaglio A terra Confermato Due contro uno Trae l'altro Siamo due contro uno Eh problema Lo prendi? No È dentro l'hanger sicuro Ti guarda qua Sì Cambio posizioni È finito È finito È finito Gas in arrivo Nuova zona sicura Contrassegnata Guarda dietro c'è la porta Sì lo so Andiamo Ferofittiamo Veloci Gas veloce grazie Gas in avvicinamento Per una volta Della tua vita Dobbiamo portarci Nella zona sicura Dai no C'è gas di merda Ok Sinistra Non c'è gas Che cazzo Dove cazzo è Eccolo 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 Terra 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 Ah Gli ho fatto Gli ho fatto Gli ho fatto Gli ho fatto Ok Bella questa Che cazzo di cecchini Con il mio Che non si vede Eh sono un po' sbagliatini Eh c'è buoni Ma come dobbiamo Statico di sotto Piccoli angeli Mica ma non c'è Ma non c'è neanche a grappoli Mica Hai visto come li ho tirati Sì sì Io ho fatto l'esca Come al solito Mannaggia Voglio i danni subiti Voglio i danni subiti Alla fine Alla fine Potevamo vincere Con le corazze che avevamo Una corazza questa Tipo Sì effettivamente Tu ci hanno messo il tipo Ma io non ho capito I tipi che avevamo noi A fianco Che ci hanno dato il caso I tipi di due cecchini I tipi dei loadout Dove cazzo sono finiti Secondo me sono morti O secondo me sono quelli Che abbiamo ucciso sopra Nella conca Che strano Ah di ci sopra Sopra cosa Ah sì Battle Royale Gas in avvicinamento rapido Andate nella zona sicura Sempre la ferita Setti in merda Io andrei Park No merda No Andiamo Sì no va bene quello Cioè se non va bene quello Andiamo a banca Come vuoi Ormai è differente Vieni a pompieri Pass C'è già uno C'è uno C'è uno C'è un team C'è andato E' andato E' dritto Tutta la merda Versagli disponibili Al lavoro No L'ho ha sciotto Staglio margato No va 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 Ma tu hai visto il campanile? Aspetti Ferisci il loro orgoglio Con qualche insurre Era due team No è uno due team O meglio ancora Prendili assassini Sì Abbiamo uno scontro Era due team Non è crackato Vinci questo scontro E torni in prima linea Perdi e per te È finito Dove minchia andiamo? Vallo fuori O conquista l'obiettivo Possiamo andare a Lamber Se vuoi Non lo so Porco dia Vi riportiamo a casa Se ha abbastanza soldi Il tuo team Può pagarti la cauzione No Ho sbagliato Perché? No Perché volevo prendere il fornimento Ma se vuoi prendere la taglia Che? E che vuoi fare con la taglia Se c'è gente qua? Sì qua Confermi Qua sotto di me È un problema Vedrà un problema Non credo Dove lo giallo da o te Eh no Però Le armi Magari Eh vabbè No No Dettagli Magari Se ci avvicinano Vi è pure entrati Una di dell'ora in casa Porca puttana Avete preso tutto? Bravo Quindi qui i soldi Non ce ne sono Qui ce n'è uno Yeah Buono Grazie Oh che novantone Mi sono frattuto Cioè Che poco da dire Non so neanche dove andare a fare i soldi Posso provare a fare i soldi Cambio posizione Cioè Cappure scarico sto bruno Ma che hanno sparato Merda No Veramente Mi piace a due Orca troia Sono loro sono Dai Ok Ok Uovì L'hanno comprato loro L'uovì Perché era lì del carrello C'è C'è Ah Merda Merda Buona 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 La puttana di mamma te Camion camion Uh che nasce a due grande non sono accorti che stavi scappando Uh quelli stanno Tritando distrarrà malissimo Cazzo di grandi Questa è proprio un antisgapo il blanch Cazzo Merda No perchè te ne sei andato Milleaftor Guido io Oh my god Milleaftor Milleaftor oh se vuole cadarmi, no c'era un traffico, ho visto male io non so guido io dai io, quanto dobbiamo tirare la 500 ma si non è l'epiede mamma mia, che fanno Cos'è questo? Corona? Si, ma sti cazzi, mettiti una piastra Il camion là? Uh, l'ho dato easy Nice shit mate Dov'è la carrella? Uno qua, uno qua Quanti sono? Da solo il mio? Sembrava di sì, ma non vedo bene da qua Sembra uno Aspetta Attenzione, una gioia Mamma mia, ma chi me lo fa fare? Andare fino avanti Se vuoi andare qua Andiamo a tipo vista Stazioni di acquisto, ricevuto Sì, ma... Oh, capitano È uno dei due Che bello Tanto, hai un brutto presentimento che non riesco a doverci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'ericotterissima. Ma era tu per morire, porco Dio. Non c'è, c'è. Non c'è un'insegna che è apparsa la fine, l'ultimo momento. Un sciacallo? Che c'è? Cassa di scorte pronta per il recupero. Arriva? È quello. Prossimo obiettivo localizzato. Oh no. Arriva un camion ciccione? Oh no. No. Qua. Qua. Veicolo nemico. Allora, salgo. Contratto aggiornato. Nuovo obiettivo identificato. Yeah. Tutte le casse di scorte trovate. Ottimo lavoro. Ok. Poi da questa taglia? Ho marcato dell'equipaggiamento. Vai, vai. Bersaglio taglia contrassegnato. Uccidetelo. Pareva che la sopra... Ma dove c'è? Ci stanno guardando con un drone anche. Top. E a me sono uno piazza a palla. Beh, io... Io ce li avrai anche. Beh, compriamo, un peraltro. Allora. Guarda anche il kit. Prendiamo anche il kit. Fasta. UAB, nemico, in volo. Cazzo, l'ho dato, non so dove. Ma l'altro, è ancora da più vicino. Come sai? C'è chi non lo so dove. È là sopra, è là sopra, là sopra. L'ho visto. Qui c'è un bersaglio. Ok. Attento. Prova a coprirti. Aspettami. Ok. Arriva. Ok, andiamo a andare verso stadio tanto. La taglia è proprio improponibile. Andiamo? Allora... Sì, non bisogna andare sul montagno. Non lo so, dipende a come si chiude. Che cazzo! Elicottero davanti a noi. Passiamo da sotto e qui? Colpi per fucile a canna liscia marcati. C'è un po' di colpi a arra in caso... Ce ne ho palla, top. Cento e uno, tre. Cassi in arrivo. Nuova zona sicura contrassegnata. Aspetta. UAP nemico in volo. Credo che l'ho visto qualcuno qua dietro. Movimento! Sì, è vero, qua davanti. È sopra di noi. È sopra di noi solo. Aspetta. Ok. Dimmi che scendono qua, dimmi che scendono qua. Arrivo, arrivo. Bottone d'arresto se vuoi. Ho marcato dell'equipaggiamento. Dove sei? Ho detto di te io. Ok. L'hanno aperto. Qua. Movimento! Palle ad grana. Passa il silenzio? Potenziamento da capo disponibile. È un'esca quella? Sono sopra. Troppe porte, quelle da coprire. Ah, sì. Stai perdendo terreno! Dobbiamo andarcene da qua. Dobbiamo andare verso... Oh, otto metri qui. Otto metri. Ti muovo. Non me la pinga a te. Tempo esaurito. Il contratto è annullato. Andiamo. Andiamo. Da questa parte volevo andare. Mi muovo. Che segui? Annullare. Dove sei. Troppo vuoi. Lo bagge? Cap'l'app'l. Cap'l. Cap'l. è basso io ah no è un server codice è chiuso che posso dire da qua attenzione voglio uscire da questo posto di merda coltellino è da te la strada giusta prendi sti colpi questo è il calico medio calibro qui ok devi farmi un po' da carica munizioni io faccio quello che porta le munizioni prendiamo che adesso qui ci sono tutte le vetrate lo sai vero? le vetrate? non tengo nessuno eh, sullo stadio lo è campo aperto qua ci si farono come niente ah, sì, sì, sì eh, ho capito devo andare da questa mi muovo di qua mamma mia che scelta che stiamo facendo eh, non vedo l'altra soluzione sinceramente eh no, dico, c'è, che è un po' aperto così uno che lo scudo eh, sì gassi in arrivo alla nuova zona sicura sono soli davanti bello va qui c'è un bersaglio vado lasciate stare è più lontano sì, sì, sì però non sovriamo mi sposto macchina avvicinamento nemico marcato aspetta, c'è una macchina si sta avvicinando? no, no, loro sono andati in quelli nel fianile sono andati cambio posizioni aspetta, andiamo più in blue va bene aspetta, stanno eccoli dove? come non dite campo aperto? ecco Dio sì ci vedo ci sono due team una è dentro il caseggiatone e una è lì però io me ne andrei dentro una casa sono dietro la... dietro la... aspetta, andate infatti cazzi, in arrivo uno è andato avanti, eh sì, sì sto aspettando a te vieni qua in questa safe e te li... te li spotto siamo tutti nella zona sicura ha fatto il giro largo, ha fatto il giro largo sono qui davanti a te stanno attraversando il ponte finisce il pingo avviciniamoci cioè, intorno da te allora vaffanculo no, no, forse guarda, scappati direi che a parte di tutto lì vieni qua stanno portati dietro ma che è avvicinamento sono due macchine sono sceso il bunker sono sceso il bunker sì io ti ho avuto le scale io ti ho avuto le scale qua, eh ecco, non ho visuale dietro, capito? hanno cambiato macchina ne ho cambiato eccolo minca minca un uno l'ho ucciso poi andiamo a andare nell'altra casa? se vuoi sì eh, la macchina non mi è andata via beh, possiamo provare a luttare lui ti do munizioni se ti serve medio calibro qui hanno preso sotto un altro, mi sa si gas in arrivo nuova zona sicura contrassegnata sento passi meglio posso dire se è che dove siamo adesso? non so guarda lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo ti guardo l'hologround non è che posso fare delle kill da qua un uomo d'auto sparito occhio a sta cosa qua guarda mi guarda ripondizionamento io sto guardando piano terra 9 team 2 direi 7 all'interno direi 7 più fantastico quello che succede scoprire letto per vendere l'auto e poi che spazio di venire a prendere qui in mezzo e valore gestione ma tu hai bastoni io c'è bastoni e lo scudo ma cosa fai con bastoni non è proprio scalare io ho sbellito e basta posso sei coltelli da lancio da lontano però troverò qualcosa comunque bastoni mi servono ma non faccio senso di tomba all'inseguo li spacco eccoli eccoli eccolo è andato a luttare quello che ho ucciso 9 stronzi sono sopra di noi che sono attivi dal fianile ma abbiamo storia verso dunque arrivano sono da me sono da me c'è una stordente tunnato ritrati bravo perché le prendo le mp7 no aspetta sulle mp7 bastoni e come puoi vedere bastoni origine di qua c'era già non so se temi bastoni in avvicinamento un mk 9 come secondaria ha lasciato il 90 ha lasciato ma se ti serve da lontano e così da lontano c'è il bruno e le mp7 io si sono deciso cosa prendere io perché bastoni sono fighi con lo scudo lo so però ok se no mi serve un'alba da media distanza comunque un bellino questo bellino questo ma che fanno questo secondo me in tanti di eccoli la eccoli la quelli che vinciano la partita sono andati dietro il fianile sono andati buon per loro io sto dietro di parchi sono dentro il fianile in arrivo zona sicura riposizionata ci va meglio noi ci va meglio infatti guardare qua tanto sono cinque vivi in 3 team dove sono lì dove trovare gli altri 3 ecco sotto 1 mince se gli fa il culo sono contento attento attento mi guardo sotto le corazze a 1 non vedo nulla stai attento vabbè mettere sono la sotto del ponte sotto il ponte qua ok riposizionamento cassi in arrivo l'ho visti stanno crossando vengo con te dove stai andando a sinistra sono andato parlami qui mi sparano per te no bro è un white shot è un'attività hai la pelle d'usa ce la farai mettiti le piazza del fraculo merda qua sembra un messaggio prima che in tappo due contro due sono qua i tipi credo tenendo sotto di loro aspetta carico non vedo dove sono faccio il giro da dietro non ho capito dove sono non ho capito dove sono i tizi gas in movimento nuova zona sicura individuata sono qua sono qua sto qua vieni in avanti sturnato tranquillo torna indietro torna indietro torna indietro in gru lanciola sturnato mi sturnato me lo vedo fa il giro eh devi fare il giro bro vengo con te l'ho visto l'ho visto è qua ricarico ma il peggio il panice perché sei qua lì ora hai tagliato eh bro mi stavo sparando da dietro cazzo da dietro mi sparavano merda si ma tu hai già indietro mi hanno sparato da dietro anche con c4 tranquillo tu sei andato avanti ti ho protetto a me mi hanno sparato col c4 e mi hanno sparato con l'arma e ti ho visto già nel capannone poi sei tornato indietro non c'è quella non c'è quella comunque ce l'ho fatta sono troppo contento per quello che ho detto tre niente più un'arma perché se io l'ho da terra è normale che ho detto io le spiudo sparare in sola ma la droga più che altro io ero sturnato e potevi scappare tranquillo eravamo tutti due nel capannone ma se ti ricordi quando gli schienatti mi hai detto vieni qua mi avete giusto tu le sono venute lì no hai detto son qua non vieni qua ah io sono capito vieni qua capito io me la cavo tranquillo con lo scudo quindi no problem il problema è che quando io stavo poi andando verso di qua loro mi hanno sparato dagli altri mi sono dovuto girare per forza infatti sono stato il primo a dire andiamo verso il fienile si si è misunderstanding perchè io le ho sturnati e stavo venendo da te tranquillo porca miseria cerca di camere va bene